passamontagna tegman school nero realizzato interamente in cotone elasticizzato cuciture ultra piatte doppie taglia unica comodissimo da portare in quanto essendo tutto in cotone molto traspirante anche ideale anche come sottocasco due modi per portarlo o con la faccia chiusa oppure aprendolo sotto in questa maniera molto comodo perché è costruito in maniera tale che si possa utilizzare in questi due sistemi all'occorrenza per toglierlo scende sul collo e diventa un collare facilissimo da mettere in quanto elasticizzato molto versatile e quindi